Alla fine, a seconda tappa di oggi, di questo tour in Lombardia, siamo arrivati a Cremona. Cremona che mi hanno detto in molti di essere una graziosa cittadina ed effettivamente sono qui, in piazza, e non potevano rimanere sbalordito dalla cattedrale che è dietro di me adesso. Veramente, questa piazza mi ha piacevolmente stupito. Adesso non so ancora moltissimo a riguardo, però la prima impressione di questa città è veramente piacevole. Bella, bella. Purtroppo oggi avremo poche ore per vederla e per scoprire qualche cosa, quindi penso proprio che dovrò organizzare molto presto un weekend per venire a scoprire qualche cosa di più, perché veramente l'architettura mi pare davvero notevole e soprattutto mi pare anche una cittadina bella viva e vivace, ecco, perciò sicuramente non mancherò di tornare a visitarla. Quindi adesso me la godo e poi eventualmente ve la racconterò. Ciao!